Caro Gianclaude, ti volevo dire una cosa veramente brutta. Dimmi Alessio. Non so come, ma il Real Madrid è riuscita a soffiarci Vargas. Hanno offerto 41 milioni di euro, e della valle ha accettato. Alessio questo non faceva parte del progetto. Bisogna trovare una soluzione in alternativa il prima possibile. Potrei tentare un'offerta per avere con la Rova 30 milioni. In questo modo ne risparmiamo ben 10 rispetto a Vargas. Ottima idea Alessio sai che non ci avevo ancora pensato. Il bilancio in questo modo resta in linea con il fair play finanziario? Ci sono novità sui giocatori scoperti dal grande capo degli osservatori Castagnini? Si Castagnini mi ha detto di avere trovato un ragazzo dal grande futuro assicurato. Il ragazzo si chiama Adriano e gioca nel Flamengo. Abbiamo un'opzione a nostro favore, per la cifra di 40 milioni. Bravo Alessio, questo è un grande colpo e sicuramente se costa 40 milioni, vuol dire che è un campione. Finalmente il progetto sta arrivando al termine. Questo campione lo devo a te a Castagnini. Grazie di cuore Alessio. Viva la nostra simpatia. Il mio progetto è il nuovo stile Juve. Grazie. Grazie.